Il Servizio Igiene e Sicurezza Ambienti Lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catanzaro, diretto da Egidio Villella, ha organizzato alla Mezzia Terme il Seminario La Cultura della Sicurezza, fattore strategico e competitivo. Il seminario è la prima iniziativa che nasce dal protocollo di intesa siglato tra ASP di Catanzaro e la SAC all'SPA. All'incontro era presente il magistrato della Corte d'Appello di Torino, Raffaele Guariniello, e il vicepresidente dell'undicesima Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei Deputati Renata Polverini. Guariniello ha sottolineato... Diciamo che c'è molto da fare, ecco, perché le imprese devono essere più virtuose, ma non è che manchino le leggi. Le leggi ci sono, ma purtroppo spesso vengono disapplicate. Gli organi di vigilanza non sono adeguati e anche l'intervento della magistratura lascia desiderare, perché ci sono zone in cui i processi in materia di sicurezza del lavoro proprio non si fanno e altre in cui si fanno però magari con una tale lentezza che poi si arriva alla prescrizione del reato e quindi si diffonde tra le imprese l'idea devastante che le regole ci sono ma si possono violare impunamente. Grazie 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 Grazie